Ciao a tutti ragazzi, benvenuti dal vostro CryptoHacker. In questo video andremo a vedere come impostare e come settare la BSC, ovvero la Binance Smart Chain, attraverso Metamask. Sapete benissimo che è la blockchain più utilizzata nel comparto delle criptovalute e moltissimi protocolli che andremo ad affrontare in questo canale utilizzano quest'ultima blockchain. Metamask nasce come un wallet nativo Ethereum. Ciò vuol dire che lavora come base su blockchain di ETH, ma è anche vero che noi possiamo andare a diaggiungere la BSC, ovvero la Smart Chain, per andare a interfacciarsi con tutti quei protocolli e con tutti quei token che sono nativi BEP20. Come si fa ad aggiungerla a Metamask? Dobbiamo accedere da desktop, ma comunque sia è molto molto semplice. È fattibile anche attraverso l'applicazione del cellulare, che sia appunto Android o Apple, cliccare su questi tre pallini poi Impostazioni reti, cliccare su Aggiungi una rete, Public Chain. Aggiungi qui ci dà tutte le impostazioni di base. Dobbiamo cliccare su Approva e come potete vedere mettiamo in automatico. Ci ha aggiunto la Smart Chain su Metamask e come potete vedere qui ci ha cambiato in BNB. A questo indirizzo possiamo ovviamente mandarci i nostri BNB che sono necessari per andare a pagare le tasse di transazione. Se non sapete che cosa sono le gas fee, devi sapere che per ogni transazione avvenuta su qualsiasi blockchain c'è un token nativo, una cripto nativa, per il quale noi dobbiamo andare a pagare, andare a ricompensare i miners o gli stakers per effettuare la transazione. In pratica, parlando terra-terra per andare ad utilizzare una determinata blockchain, noi dobbiamo avere a disposizione sul wallet dei BNB per andare a pagare ovviamente le transazioni, altrimenti le transazioni non verranno effettuate. In questo video abbiamo visto come aggiungere la BNB Chain su Metamask, essenziale per investire in protocolli ad alto rendimento. Mi raccomando iscriviti al canale!